Il corpo di Edoardo Ayala, originario di Marina di Camerota, è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento a Bellomonte, a pochi chilometri da Caracas. L'uomo è stato ritrovato dalla polizia venezuelana in una pozza di sangue con il cranio completamente fracassato e diverse chimosi sul corpo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti locali, potrebbe trattarsi di un omicidio a scopo di rapina, ma considerata la posizione antimaduro, potrebbe trattarsi anche di un omicidio con scopi politici. I malviventi, prima di lasciare l'appartamento, hanno portato via anche tutti gli oggetti preziosi presenti in casa e successivamente sono fuggiti a bordo dell'auto della vittima. I vicini di casa hanno raccontato che la notte prima dell'omicidio il 58enne sarebbe rientrato nel suo appartamento in compagnia di alcuni sconosciuti. Ayala, che era titolare di un'azienda che si occupa della lavorazione della carta, era un imprenditore molto conosciuto in Venezuela, ma la terribile notizia si è diffusa subito anche nel comune di Camerota, dove attualmente vivono alcuni parenti della vittima. Sulle indagini vige il massimo riservo da parte degli inquirenti.